Questo video riguarda i migliori tre cucce per gatti. Il vincitore della qualità è il Pecute Cuccia Gatto. Realizzato in pelle scamosciata e corallo di alta qualità, è estremamente resistente e ben fatto, e il lato imbottito offre un supporto extra per la testa, il collo e la schiena dell'animale. Il design leggero rende la cuccia portatile facilmente, è accogliente per il vostro animale sia in casa che in viaggio. Si adatta perfettamente a qualsiasi. I tappetini imbottiti possono essere rimossi per la pulizia e l'uso da solo. Poiché utilizziamo tessuti diversi, puoi capovolgere il cuscino e usarlo in due modi. Poiché è fatto di delicata pelle scamosciata e corallo, fare attenzione all'acqua per evitare che si bagni. Se ci fosse problema di qualità col prodotto o lei avesse dubbio dell'utilizzo, potrebbe contattarci con e-mail. Siamo sempre qui per servirle. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Musée Cuccia. Le nostre tende per animali domestici sono realizzate in pagine e flanella di alta qualità, che offrono al tuo animale domestico un'esperienza confortevole e accogliente. La tenda per animali domestici è progettata con graziose orecchie di coniglio sulla parte superiore e una palla di peluche resistente ai morsi appesa all'interno, che è così adorabile e divertente. La tenda del gatto e il cuscino possono essere separati. Possono essere usati separatamente e sono facili da pulire con acqua delicatamente. La tenda è riempita con cotone pagine ad alta densità, che ammortizza gli urti e fa bene nell'insonorizzazione. Il nostro cuscino interno è a doppia faccia. Un lato è in materiale di flanella caldo e accogliente e l'altro è in tessuto non tessuto confortevole e traspirante. Il vincitore del premio è il Vanasa Cuccia. La superficie del nostro letto per gatti è fatta di finto peluche. È riempito con imbottitura ecologica per una combinazione di comfort e traspirabilità, rendendolo un grande regalo per mantenere il tuo amico felice giorno e notte. Adatto a cani piccoli, medi e grandi. Offriamo 7 misure di letti per animali, che vanno da 40 cm barra 15.7 inchi a 100 cm barra 39.4 inchi di diametro esterno. Il fondo antiscivolo della cuccia per gatti da interno mantiene il letto in posizione. Il vostro animale non sarà limitato e potrà fare tutte le attività ricreative che gli piacciono senza scivolare. Il fondo antiscivolo della cuccia per gatti da interno mantiene il letto in posizione. Il vostro animale non sarà limitato e potrà fare tutte le attività ricreative che gli piacciono senza scivolare. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento. Grazie. Grazie.